Il vicepresidente del Consiglio si racconta, tra pubblico e privato, in una lunga intervista a Francesca Fagnani. La belva che rappresenta Matteo Salvini è la Tigre, perché negli anni della sua infanzia guardava in tv la serie animata giapponese L'Uomo Tigre. Dice più volte di essere meno aggressivo e arrogante di quello che può sembrare e di quello che è la percezione di lui più diffusa, e ammette di essere felice con la sua famiglia non tradizionale. C'è anche spazio per la politica nella lunga intervista rilasciata dal vicepresidente del Consiglio a Francesca Fagnani durante la puntata di martedì 2 aprile di Belve, ma certo ciò che più incuriosisce sono i passaggi che mettono più in luce i suoi aspetti inediti, come i difetti che lui per primo si riconosce, sono disordinato, confusionario, umorale, meteoropatico, timido soprattutto con le donne. L'immagine è diversa dalla realtà. Del potere dice, mi piace la possibilità di incidere, di decidere. Il voto a me serve per sistemare le case. Il potere ti dà dei vantaggi perché qualcuno è più gentile, ma ti dà anche degli svantaggi. Ogni tanto mi piacerebbe anche essere Matteo. La prima ragazza l'ha avuta solo quando già era all'università, una cosa che oggi è impensabile. Al liceo 0, anche perché, se non avevo la certezza che la risposta fosse positiva non mi azzardavo, con il senno di poi penso che avrei fatto meglio a tentare. Oggi, dopo un matrimonio finito in un divorzio, la sua compagna di vita è Francesca Verdini, molto più giovane di lui che, dice, ha portato nella sua vita, gioia, forza, sorriso, pazienza. Io ho venti anni in più di lei e non so se lo facesse mia figlia di portare un compagno con una differenza di età così come la prenderei, per quanto mi riguarda, con Francesca è nato tutto per caso e mi auguro che vada avanti ancora per tanto tempo. Non so se ci sposeremo, ma sogno che sia l'ultima delle mie donne. La conduttrice sottolinea che quindi, a sentire le sue parole, sta dicendo che la felicità è possibile anche fuori da una famiglia tradizionale e Salvini risponde, certo. Non sono titolato a fare la morale a nessuno, sono divorziato. In tema di amori, Francesca Fagnani torna a parlare della compagna più celebre di Salvini, Elisa Isoardi e di uno scatto in cui lui dormiva nel suo letto che la conduttrice postò su Instagram, è stato un gesto fuori luogo? Chiede la conduttrice, sì, sì. Non mi faccio foto mentre dormo, ne le faccio a chi è con me, però detto questo, è acqua passata. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news, puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.